Eccoci qui, ok, mi interessa quella materia, qui che c'è? Che cazzo è? Materia podistica, questa sì, l'aveva scritta Stefano questa, non ricordo cosa si sviluppasse però. Questa posso pure toglierlo, non fa un cazzo. Ah sì, mi sa che aumentava lo sviluppo delle materie, se non ricordo male. 5000 passi? E allora fa abbastanza velocemente. No? Vediamo se c'è qualche altra materia da queste parti. Non so se ci ritorneremo qui. Niente. Credo che possiamo andare. Ah, non è una strada normale. Una donna. Dove devo andare? Che cazzo di strada devo fare? Beh, qui devo tornare al mercato, credo, no? Ha un muro che c'era al mercato. E faremo un po' di attività extra, sicuramente. Lì c'è l'arena. C'è la palestra. E niente. Può essere che l'hanno fatto solo per un combattimento qua, vero? Ah, io passare alla scuola. Chi è? Eh, non parla nessuno. Tutto ok? Sì. Sì, diventate tutti muti. Ah, c'erano anche i vari piccoletti del mercato da controllare. Sì, è qua, va? Picchietti come stanno? Ah, il covo dei bambini pure vorrei andare a trovare prima di andare via. Che è succedo? Ah, questa. Sì, è sicuramente. Quindi, dopo le bambini dei reattori 1 e 5, cosa facono i ecoterroristi? Sì, vanno per la trifecta e prendono i reattori 7. Un altro attacco dei amatori che non siano azzurri di colaterale. Il cielo sta fallendo e l'avalanche sta a culpare. Ma aspettate! Sì, vedi che Wutai è la persona fondare le loro attività? Per tutti i loro accionamenti di combattere per i slums. Sì, non è più che i luoghi di Wutai. Sì, vedi che i luoghi di Wutai. Non c'è room in questo for regret, o quattro, o quattro, o quattro, o quattro. Sì, vedi che possiamo fare è continuare a passare, continuare a seguire questo passato che abbiamo chiesto. Quattro, per che possiamo dire che abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo potuto. Sì, ma... Ora, inizio di guardare avanti, devi guardare. Tutti qui è assicurati. Quindi ti chiedo... Non. Ok, quindi ci arriviamo per un po' a messa, eh? Ci vuoi passare nuova? Non sa niente, eh? Oh, è calato un po' sti prezzi, però Ah, non me li segna però in nuove missioni, ti maledetto Oh, è calato! Oh, è calato! Sì, ovviamente! Grazie molto! Sì, tornate tranquilli e sound Nessun'indizio Ah, madonna guante! Un'altra volta, facciamoci un giro prima di qua Erano quelli con la spada, mi pare, no? Qua è altra missione, però Ehi, Hugh! Cloud, certo? Oh, è felice che ho trovato tu! Sam! Ha detto che tu sei! Ha detto che sei un mercato E un ultimo soldato C'è un mercato E un mercato C'è un mercato C'è un mercato Sei un mercato Un mercato C'è un mercato C'è un mercato Ci sono stati Ma bene C'è un mercato Fai gli cuspaggi Che ne sono Sì, hanno un bel poste E i loro nomi Sì, i loro nomi C'è un mercato Cocolo Cocolo Fabio Cocolonati C'è un mercato Mi piacciono Ah, questi me li segno Allora Ah no, queste sono le zone Qui mi posso spostare velocemente Vediamo chi troviamo prima Ma penso che troverò prima I ragazzini A me non credo che staranno dentro Dentro la scuola Qua non c'è nessuno Staranno nel loro passo segreto Che strano non averne trovato nemmeno uno E andiamo La passo segreta Ah, vediamo se c'ho qualche Medaglia Quante ne ho? 22 Quante ne ho? Quante ne ho? Porta gli omoguri. Eh sì, dai. questo lo prendono non so che può servire però il resto per momento è meno ah i vostri amichetti è stato qualcuno? no no non mi interessa è un piccolo wow sembra come una terribile idea non è no adesso non mi interessa ma questo li stanno di qua no da un'occhiata c'è nessuno? pare strano incontrare nessuno non c'è nessuno dove sono andati sti ragazzini? non c'è nessuno ah fuori nei dintorni allora siamo andati qua non c'è niente adesso bravo regredo non ci sia niente come non detto spero trovi non c'è nessuno c'è c'è nessuno att really non c'è nessuno ma Usciamo di qua Aspetta mi capisco lo stesso fabb... oh che palle C'è un godopo da te Babbinii Bambinii Bambinii Seguiamo Bambinii 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 Bambini Bambinii Bambini Bambini Bambinii Bambinii Bambini 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 che cazzo è? che cazzo è? attrangerante no temporale si sprint ok per il momento ando avanti così dove è la panchina facciamoci un riposino guarda che si sta messo bene è tornata la maestra o è conclusa così? ok e una è andata grazie 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 grazie